Il 10 marzo scadeva il tempo a disposizione delle famiglie per mettersi in regola con le vaccinazioni obbligatorie secondo la legge Lorenzin. Da ieri quindi i genitori che non hanno presentato la certificazione originale sulle vaccinazioni dei figli vanno incontro alle sanzioni previste dalla legge. Il dato nazionale però segna un incremento della sensibilità alla vaccinazione soprattutto da parte degli esitanti che con la legge hanno dovuto confrontarsi con la necessità di approfondire l'argomento e così il dato in generale dei primi mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017 evidenzia il superamento della quota a livello nazionale della copertura del 95 per cento come soglia minima di sicurezza indicata dall'OMS. La scadenza di lunedì scorso a Fano non ha regalato sorprese a riguardo degli inadempienti che gravitano sulle strutture comunali come ci dice anche l'assessore Mascarin. Al momento non ne registriamo. Il passaggio più delicato sul tema vaccini è stato all'inizio dell'anno scolastico 2018-2019. Alcuni di questi utenti hanno poi intrapreso il percorso, altri via via hanno rinunciato alla frequenza delle strutture comunali. Quindi in realtà da diversi mesi i bambini che risultavano non in regola all'inizio dell'anno scolastico non frequentano le strutture 06 del comune di Fano e quindi in realtà diciamo anche la data del 10 di marzo non è stata una data che ha portato con sé particolari criticità. Ora però i dati da parte del Dipartimento di Prevenzione e Salute sono ancora in fase di elaborazione dato che per dare la possibilità a tutti di rientrare nei termini di legge ha aspettato fino all'ultimo giorno prima di inoltrare le richieste di verifica all'Asur che ora inevitabilmente si trova nella condizione di dover verificare un surplus di situazioni. Le posizioni di inadempienza che stiamo questi giorni segnalando o comunque di non conformità e che ci chiede anche la Regione sono relativi appunto a bambini che in qualche modo non hanno un programma vaccinale completamente ecoralizzato. Questo non significa che non siano idonei per la scuola perché ovviamente se hanno iniziato un programma vaccinale e questo l'ho avuto modo anche di spiegarlo e di rammentarlo anche ad alcuni colleghi ma soprattutto anche ad alcuni dirigenti delle scuole se c'è già nato un ITER questo è una situazione sicuramente idonea per accettare il bambino. Noi non è che possiamo immaginare di recuperare nel giro di poco tempo vaccinazioni magari anche numerose non fatte. L'importante è che ci sia l'intenzione e la volontà del genitore di proseguire l'ITER. Noi ad ogni appuntamento diamo un appuntamento successivo e questo rende il bambino sì ancora non completamente vaccinato, sì in ritardo ma sicuramente idoneo ad entrare a scuola.